Quando il gioco si fa duro i veri duri cominciano a combattere davvero ed è questo lo spirito messo in campo nella dura stagione del Covid dal Teatro Stabile del Veneto che dopo aver accolto con spirito innovativo la sfida digitale e il recente annuncio della nuova guida artistica affidata ad un uomo di spessore ed esperienza come Giorgio Ferrara ha annunciato l'ingresso di Assindustria Veneto Centro nella compagine societaria del teatro. La Confindustria di Padova e Tresiso entrerà come socio sostenitore per i prossimi tre anni con un contributo complessivo di 150.000 euro. Una novità che coniugando la vocazione all'export delle aziende venete alla grande esperienza internazionale del direttore artistico che ha guidato l'Istituto di Cultura Italiana di Parigi e ristanato il Festival dei Due Mondi di Spoleto potrà insieme valorizzare le relazioni tra cultura e impresa sul territorio e favorire partnership ed eventi fuori dai confini nazionali. Approvata dalla CDA di Assindustria Veneto Centro la chiusura dell'operazione attende ora l'imminente e praticamente scontata approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci del Teatro Stabile composta dalla Regione Veneto, dai comuni di Venezia, Padova e Treviso, dalla provincia di Padova e dalle tre Camere di Commercio. Unione benedetta anche dal governatore Veneto Luca Zaia che ha parlato di un progetto vincente che conferma nel legame tra cultura ed economia la chiave di volta per la ripresa dell'economia appena finita l'emergenza sanitaria e ne usciremo di sicuro, ha commentato Zaia, ma dovremo essere uniti verso obiettivi concreti. Le imprese rappresentate da Leopoldo Destro, presidente di Assindustria Veneto Centro, aiuteranno così con questo sostegno a superare la pesante crisi causata dai limiti imposti dall'emergenza, ma anche a guardare avanti e sostenere anche le professioni dello spettacolo. Una spinta propulsiva per la ripartenza del settore della cultura e dello spettacolo del vivo per Giampiero Beltotto, presidente dello Stabile del Veneto, l'ingresso di Assindustria Veneto Centro nella famiglia dello Stabile, come è già successo con le Camere di Commercio, per restituire al territorio Veneto il ruolo di protagonista nelle politiche culturali, confermando anche come cultura e teatro siano un grande strumento per raccontare, in Italia e all'estero, il territorio Veneto e le sue imprese.